No, lo so che tu... Eh, ciao a tutti. Ciao. Allora, scusateci, abbiamo fatto un casino. C'è Francesco Renne in linea. Francesco, ti abbiamo cancellato la cosa che avevi programmato perché non riuscivamo a liberare l'Operlento. Per cui adesso ti scrivo per WhatsApp. Ok, 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 ok. Allora, vediamo un attimo dove siamo. Perfetto. Allora, Michele, noi ci siamo confrontati oggi e ci avevamo detti qualcosa su questo DPCM va detto. Ragion per cui siamo qui e vediamo di commentarlo. Io ho fatto un po' di riflessioni a caldo, nel senso che le ho fatte nel momento esatto in cui Conte faceva la sua conferenza stampa e la prima impressione a caldo che ho avuto è che questa volta, almeno per la prima parte della conferenza stampa, si è stato un po' più concreto delle altre volte. Cioè, incredibile a dirsi. Mi trovo qui a non attestere le lodi, però quantomeno a rilevare un dato positivo, nel senso che nella prima parte Conte non è partito con la solita tiritera noi qui l'Italia abbiamo fatto di tutto, siamo stati bravi, siamo stati belli, siamo stati fascinosi, abbiamo la pochetta fatta nel modo giusto, mentre gli altri sono cattivi e stanno peggio di noi. Poi devo dire che Conte pian piano ha cominciato a smentirmi, perché non si è mai detto che le cose si facciano sempre come dovrebbero essere fatte. Ovvero, ho cominciato a parlare di provvedimenti, io tra l'altro ho preso anche un pochino di appunti mentre facevo la conferenza stampa, adesso li recupero perché sono tanti, man mano che parlava io prendevo questi appunti. Allora, allora, allora. Inutile ripetere le cose che poi si potranno tranquillamente. Anzi, si stanno giocando. Io non so niente. Tu non sei niente? Io so quello che ho avuto da amici incazzatissimi, lamenti, ma in realtà dei dettagli non so niente. Se vuoi raccontare, racconta proprio così. Sì, sì, sì. Nel frattempo ho sempre di leggere, perché è la prima volta che mi spiego in tutta la giornata. Allora, grosso modo è stato confermato il DPCM che era girato in bozza a partire da ieri pomeriggio, ovvero la chiusura dei ristoranti e dei bar a partire dalle ore 18, cioè l'apertura dalle 5 alle 18, dopodiché alle 18 in poi tutti a casa, serate abbassate. Nei ristoranti saranno consentite massimo 4 persone per tavolo. Alcune attività vengono fermate, ma anche questo è atteso. Le palestre, le piscine, i centri di benessere, le spa e così via. Cinema e teatri chiusi. Non saranno consentite feste, nel senso che Daniele Baldo, per colpa tua, sto ricominciando a fumare. Voi pensate che io avevo smesso, ma davvero avevo smesso qualche settimana fa. Adesso ho dovuto ricominciare, perché in questi giorni ci è rimasta solo la bionda. Questa purtroppo, non altro. Quindi cinema chiusi, no feste, quindi né cerimonie di matrimonio né altro. I conveni si terranno a distanza. Una cosa di cui sarà molto dibattuto è il fatto che si punta ad avere un 75% di didattica a distanza nelle scuole superiori, mentre per le scuole di primo e secondo grado non cambia nulla. Si raccomandano, anzi, non si raccomandano gli spostamenti, cioè si raccomanda di non spostarsi. Ora, a questo punto, su questa cosa, immagino che bisognerà aspettarsi, come è successo in primavera, una pioggia di autocertificazioni, perché se io voglio andare da qui a trovare il mio amico Michele Boldrin, dovrei avere un autocertificazione e mi consente di farlo. È soltanto una raccomandazione, però immagino che la raccomandazione debba essere eseguita per poter avere un qualche effetto da qualche altra misura. Qui, come sempre dico, non sono un giurista, quindi non so, magari ci fosse Vitalba, ci potrebbe spiegare meglio questo punto, però adesso si tratta soltanto di raccomandazione. La parte più interessante, secondo me, al di là di quello che ho raccontato, è il fatto che Conte ha parlato esplicitamente di ristori pressoché immediati, entro il mese di novembre, per le attività che vengono colpite da questo lockdown, perché secondo me di lockdown si parla. È vero che è una chiusura forzata a partire dalle 18, però la mia sensazione, oggi con l'arigio mi sono confrontato anche brevissimamente con Vitalba, è che fondamentalmente si tratti di un lockdown vero e proprio per alcune categorie, ovvero alcune categorie che vivono soprattutto degli incassi della serata, vengono bloccate. Dal 18 in poi, non dalle 20 o dalle 21, o dalle 22 o dalle 23, i ristoranti devono essere chiusi. Quindi c'è stato di essere chiusi. Ma certamente, i quarti dei ristoranti ovviamente guadagnano alla sera, per cena e durante i giorni. A pranzo, certo, ci sono alcuni che guadagnano, e non sono quelli che stavano le persone che lavorano fondamentalmente, perché si toglie completamente tutti i festivi, e il weekend cosa rimane. Ma se lo toglie, hanno sospeso, posso provare a chiedervi, la logica dietro alla scelta di questi posti che vengono di fatto chiusi, c'è una serie di posti, di attività economiche, a cui viene detto per l'ennesima volta voi non potete lavorare. Sospetto che la ragione sia la qualità dell'adio è pessima. Mi senti male? Allora, non si sente in modo perfetto, però che si sente? Provo a cambiare il microfono. C'è un pochino di rimbombo ambientale. Come mi senti? Oh, meglio, meglio. Allora, la logic, la scelta di queste attività che vengono chiuse è stata giustificata? Perché io ho ricevuto messaggi di svariati amici, tutti partite IVA, ovviamente. Alcuni, tra l'altro, molto PD e molto pacati, infuriati, dicendo, hanno dichiarato guerra. Qualcuno, che è anche un amico, mi ha fatto l'ironia, dice, hanno deciso di applicare la tua ricetta di politica economica, solo che non avevano capito come farlo, quindi lo fanno mano militari. Hanno dichiarato guerra la piccola impresa, piccola impresa italiana, specialmente nel settore della ristorazione, turismo, intrattenimento, servizi alla persona in generale, e basta e tutti gli altri produtenti. È così? Costa, hai tu il microfono. Allora, sicuramente è così. Io, quello che non capisco, lo stavi accennando tu poco fa, per quale motivo non viene data una giustificazione a certa scelta? Cioè, perché i ristoranti immediatamente sono quelli subito colpiti dal lockdown, perché i servizi di cura alla persona sono quelli colpiti dal lockdown di default. Posso comprendere il cinema e teatri, ma fino a un certo punto, ricordiamo che il cinema e teatri e in generale tutte le attività di intrattenimento sono quelle che sono state colpite anche a prescindere dal lockdown, perché a parte il contingentamento negli ingressi e quindi incassi pressoché minimi anche durante l'apertura, sono quelli che sono stati chiusi subito allora e chiusi di nuovo adesso. Sono alcune categorie dove senza che venga spiegato qual è il se c'è un indice di pericolosità o di contagio all'interno di quei luoghi, vengono colpiti, punto, quelli lì si chiudono. Ma infatti, Michele, stavo dicendo la mia sensazione che è una sensazione fastidiosa è che questo di fatto sia un lockdown totale. Cioè, il governo secondo me non ha, soprattutto dopo quello che è successo a Napoli e dopo le minacce da parte delle piccole imprese e delle micro imprese di scendere in piazza un pochino dovertutto in Italia, non ha avuto il coraggio di fare un lockdown totale, per fortuna, ma abbia tentato di fare un lockdown che è totale di fatto. Questa è stata la mia sensazione. limiti a tal punto le attività delle piccole imprese che di fatto è come se le chiudessi. Posso pensare che so io alla zona in cui lavoro io, in cui i ristoranti lavorano anche di giorno perché c'è gente che va al lavoro e che si ferma per un pranzo frugale per quella mezz'ora, però tutti gli altri ristoranti che non vivono di lavoro, di lavoratori che vanno a interrompere la giornata per un pranzo, tutti gli altri di fatto sono chiusi. Milano lo sappiamo, è una città particolare in cui c'è un tasso di lavoro, soprattutto in centro, che è particolare. Il resto delle attività in Italia secondo me soffriranno in una maniera terribile. Stavo dicendo, la novità se vogliamo è il fatto che Conte racconta durante la conferenza stampa che ci saranno dei ristori praticamente immediati nel mese di novembre e che questi ristori verranno pagati attraverso un'attività dell'Agenzia delle Entrate che farà bonifici alle aziende, alle imprese. Ora, come verranno fatti i bonifici? Di quale importo? Se attraverso una prenotazione come si ebbe con il click su IMS, eccetera, non si sa. Verranno ristorate tutte, non verranno ristorate tutte, bisognerà fare richiesta, non bisognerà fare richiesta? Oggi Gualtieri, almeno così dice, apre così Repubblica, ha detto che saranno ristorate circa 350.000 attività. Prova a fare due conti, posto che i conti puntuali non si possono fare evidentemente per molte ragioni. Prima perché non sappiamo quanto è stato stanziato e quanto verrà stanziato. Secondo, perché non si sa quali sono le attività che intendono ristorare. L'altra volta ci fu il discorso sulle partite IVA, 600 euro. Questa volta sembrerebbero tutte le attività. Ora, io ho una notizia, una velina. Secondo i primi conteggi, l'intenzione del governo sarebbe quello e da confermare naturalmente, è una notizia, una velina che mi è stata girata, non è detto che sia quella corretta. Secondo le intenzioni del governo sarebbero stati stanziati 750 milioni di euro. Ora, se la platea di beneficiati del ristoro è quella che dice Gualtieri a Repubblica, cioè 350 mila aziende più o meno e lo stanziamento in bilancio, perché un'altra cosa che ha detto Conte è che non verrà fatto altro debito, è di 750 milioni di euro, voi capite bene che stiamo parlando veramente di peanuts, di parvamateria, perché significa poco più di 2000 euro ad attività e se i 2000 euro possono andare bene per una piccola impresa, penso un'impresa artigiana che è costretta a chiudere, non mi spiego come possono andare bene ad un ristoratore che ha normalmente 70-80 posti a sedere nel ristorante, dei dipendenti, delle spese fisse, eccetera, eccetera. Lascia che ti, lascia che ti segui, Io a questo punto mi tocca fare quella che vuole fare la domanda, io non ho capito più niente, allora, giusto adesso uno dei nostri ascoltatori, non si firma purtroppo, pessima abitudine anche se a chi me è l'apicoltura, comunque scrive, sono una partita di medicina che studia in ospedale, è di fatto da stanno crescendo di giorno in giorno ad un ritmo insostenibile. Vabbè, la mia anima economica piange, ma sospetto questo voglia dire, adesso non lo so, sto cercando di guardare di nuovo i dati, non riesco bene a capire in che senso il sistema sanitario italiano sia di nuovo incapace di gestire una situazione quando ha in terapia intensiva al momento 1.200 persone, ma va bene, va bene, ci credo. Torneremo dopo sul perché sul percorso. Il punto è la crescita dei contagi ha messo e non concesso che tutto il casino derivi dai contagi in generale. Io al momento conosco quattro persone con risultate positive al test negli ultimi giorni, nessuna di loro ha al minimo sintomo, però c'è un po' di due a testa. In carità, probabilmente è un sample completamente bias. Quindi, ha messo e non concesso che la crescita dei contagi sia un meno problema per il sistema sanitario e che questo si stia preparando a causare una mortalità simile a quella di marzo da prima. Sono queste le attività dove avviene il contagio cioè le cene alla sera, i bar alla sera, cos'altro hanno chiuso le palestre, i campi di sci. E' evidente che è uno che lo documenta. Hanno chiuso tutte le attività sportive. Uno mette le mascherine e suppongo il posto più ovvio dove prendersi il contagio siano i mezzi di trasporto. Certo. No? Assolutamente. O la propria con uno che torna dal mezzo di trasporto l'ha preso e lo trasmette a tutti a cena. C'è qualcuno che abbia documentato che queste cose che stanno chiudendo sono quelle responsabili per diciamo 40%, 50%, non voglio 100%, ma un percentuale alta della crisi del contagio? Non sicuramente Conte. Tra l'altro nessun giornalista li ha posto queste domande. Conte ha detto genericamente che la curva dei contagi sta crescendo rapidamente oggi siamo a più 21.000 rispetto a ieri e quindi bisogna ferrovare in qualche modo facendo dei sacrifici. Le attività colpite che devono fare i sacrifici non è detto che siano quelle che generano l'impennata della curva. Perché nei posti di montagna la gente non può andare a sciare? Mi sembra una cosa ho capito che si fa molta propaganda sulle code alle sciovie ma le code delle sciovie le fai con la mascherina con la sciarpa col casco molto isolato e basta imporre un minimo di distanziamento sociale. Dopodiché se l'aria è aperta tutto il giorno siamo molto meno rischiosi che la metropolitana. Ora capisco io non sto suggerendo che bisogna chiudere la metropolitana. La metropolitana è necessaria uno dice e sciare non necessariamente a parte che dipende ma qual è la logica? Impediamo e vietiamo tutto ciò che è necessario perché? perché il Cristo Redentore allora ci salverà dalla peste perché la Madonna della salute cioè è una roba tridentina cattolica adesso ci pentiamo togliamo dalla nostra vita tutto ciò che è minimamente ludico e il salvatore dell'umanità fermerà il virus è questa l'idea perché se siamo d'accordo che non serve di per sé non serve di per sé quindi che cavolo di ragione c'è Michele i dati non li abbiamo io non so se ce li abbiano loro probabilmente ce l'hanno io capisco che ho sempre avuto un'altra opinione su come gestire questa cosa ma evidentemente è ultra minoritaria e non funziona non la si vuole funzionare insomma in Italia ma che senso punire degli esseri umani solo perché hanno un bar che apre la sera esatto allora c'era un'altra strada che era stata tentata in primavera che era quella del degli ingressi scaglionati nei bar con tanto di sanzioni per chi non rispettava chi veniva beccato a non rispettare per cui la distanza di sicurezza numero massimo ricordo c'è un bar pub vicino a casa mia in cui si entrava uno per volta per prendere quello che bisognava prendere e poi lo si consumava fuori perché le chiese sono aperte scusate esatto brava le chiese sono aperte orgo Dio brava Valentina brava Valentina e perché certo in chiesa non ti perché è proprio è il cattolicesimo cattolicesimo tridentino stiamo aspettando il Cristo salvatore faremo purtroppo Palladio non c'è ma insomma cercheremo di fare un'altra basilica chiesa santuario voglio dire adesso al di là dell'aspetto economico poi anche cosa vuol dire che ristorano tutti dice la gente di non lavorare gli mandi un assegno a casa pari a cosa sulla base di cosa determinano non l'ho detto non l'ha detto questa è l'altra cosa che mi ha fatto incazzare perché non l'hanno detto adesso si stanno rincorrendo le voci come ti dicevo e a me è ripeto arrivata questa velina ma se quelle dovessero essere gli importi cioè 750 milioni stiamo parlando di nulla ma proprio nulla vista la platea di aziende coinvolte proprio di nulla praticamente ti indennizzano ti fanno money drop per un mese per il mese di novembre e poi viva Dio speriamo che vada tutto bene anche perché poi ci sono da santificare le feste c'è il Natale quindi uno degli obiettivi tra l'altro oggetto anche di domanda da parte di un giornalista è quello di fare le feste comandate in casa tutti allegri tutti contenti davanti al panettone e abbracciandosi per gli auguri una cosa che è potenzialmente positiva poi dopo torniamo un attimo a quello che stavi dicendo una cosa potenzialmente positiva è che rispetto alle precedenti dei precedenti decreti sembrerebbe che questa volta non bisogna fare la corsa per cercare di ottenere un indianizzo sembrerebbe mentre l'altra volta se ricordi ha il sito IMSS che non funzionava che andava spesso in bug ha il discorso di 600 euro che sono dovuti essere rifinanziati due volte perché non ce la facevano poi c'è stata confusione tanto è vero che il secondo decreto parzialmente modificava la platea di beneficiari di 600 euro e si è posto rimedio ad un altro errore stavolta sembrerebbe che hanno le idee un pochino più chiare sembrerebbe però aspettiamo una prova del 9 il decreto tra l'altro dovrebbe essere in gazzetta ufficiale martedì a quello che dice Conte hai un'idea di che frazione di più sta roba ma senti ho fatto dei conti prendendo Michele se chiudi il tuo microfono perché allora io ho fatto dei conti veloci oggi pomeriggio perché sai ho il mio modellino ho inserito un pochino di dati allora teniamo presente una cosa nel primo trimestre del 2020 il PIL ha avuto una decrescita del 5% nel secondo del 13% la situazione è abbastanza simile a quella del primo trimestre grossomodo se il lockdown non verrà non verrà poi confermato anche in dicembre secondo me è abbastanza facile prevedere una caduta del prodotto interno lordo per questo trimestre del 5-6-7% a mio modo di vedere questo significherebbe ho fatto i conti significa che mancherebbero a fine anno rispetto al programmato 33 miliardi di prodotto interno lordo Conte tra le altre cose ha detto che non si farà altro indebitamento a me pare assolutamente improbabile io non so come che conti gli abbiano passato al ministero del tesoro della ragione generale dello Stato anche perché tutte le le leggi di spesa che sono state approvate in questi mesi sono già tutte quante destinate e hanno già tutte quante un delle misure già prese vanno a copertura di quelle questo mi farebbe pensare che quella velina che ho ricevuto potrebbe anche avere un fondamento nel senso che se non intendi spostare se non intendi fare nuovo indebitamento devi spostare piccole cifre da altre da altre voci e le cifre totali non possono che essere piccole allora delle due luna o si torna in Parlamento chiedendo un altro sforamento di bilancio oppure una presa in giro detto proprio senza mezzi termini non esiste una terza via io sto sto stavolando zitto perché sto cercando di seguirti e devo dire che a questo punto gli aspetti economici mi sembrano quasi secondari anche se capisco perfettamente che dal punto di vista stessi qua ragionando economicamente continuare a impedire a gente di lavorare dicendogli tranquilli qualcuno mi presterà dei soldi e ve li darò così avrete un reddito uguale a quello che avreste avuto senza lavorando è semplicemente una politica folle se non altro perché nel momento in cui decidi che certi beni e servizi non possono essere prodotti e realmente mantieni il reddito di tutti uguale o ben tutti risparmi all'investo e allora avremo un boom degli investimenti però post covid speriamo non mi sembra ma l'atmosfera mi sembra all'opposto mi sembra di disperazione che nessuno però magari oppure quel quindi o c'è un boom del risparmio dell'investimento in prospettiva post covid oppure quei rischi quei redditi nominali costanti che verrebbero garantiti da queste operazioni di indevitamento pubblico devono dirigersi ai pochi beni e servizi che si autorizza ancora di produrre quindi decretandone una crescita dei prezzi non vedo non vedo non vedo alternativa vedo un mucchio di gente che scrive didattica a distanza cosa vuol dire una raccomandazione una sì allora adesso per come è stata messa poi naturalmente ripeto leggeremo il testo per adesso la raccomandazione di fare didattica a distanza almeno per il 75% nelle superiori non si è parlato di orari non si è parlato di ingressi scaglionati quindi bisognerà vedere anche come si organizzano le scuole perché i classi scolastici non si possono organizzare così in due giorni però è un obiettivo quello del 75% ah ho capito siccome io ho chiesto il DAD e io non so cos'era la DAD perché in Italia si inventano cronimi ogni due per due mi hanno detto DAD sta per didattica a distanza ok ok grazie scusate non avevo connetto ci sono dei ritardi fra quando uno dice una cosa ci dicono che non è una raccomandazione è un obbligo di un minimo di 75% di didattica a distanza vediamo cosa ci si è possibile anche che diventi un obbligo bisogna vedere cosa ci sarà scritto con il testo che non abbiamo ancora visto quello definitivo potrebbe anche essere un obbligo ma a quel punto bisogna secondo me bisognerà riorganizzare bisognerà riorganizzare tutto nelle scuole cioè almeno per quello che vedo io visto che tu sei informato di me lascia che ti chieda negli altri paesi europei cosa stanno facendo perché io proprio di questa cosa ne ho quasi pieno lo stomaco se no che altre cose da fare sto cercando di ignorare il day by day guardo solo i dati negli altri paesi europei stanno reagendo nella stessa maniera so che gli spagnoli sta reagendo nella stessa maniera gli spagnoli stanno reagendo nella stessa maniera il tema del cosiddetto coprifuoco c'è un pochino dappertutto consola insomma non è un problema italiano evidentemente sono io che non capisco come continuo a non capire la logica di tutto questo un giorno la capirò va benissimo non è non è obbligatorio capire tutto questa cosa che stanno aggadendo io non le capisco io non le capisco però sto zitto Michele il punto è sì se almeno ce la spiegassero perché sai loro hanno una logica che noi non riusciamo a comprendere ci spieghino qual è la logica ad esempio quel discorso che dicevi sui contagi cioè per quale motivo di trasporto pubblico locale si parla io ho sentito l'altra sera la ministra De Micheli facciamo una battuta col comune amico Giovanni Federico ieri mattina avrei sfasciato il televisore dopo averla sentita perché sembra che vada tutto bene che sia tutto perfetto che le corse sono aumentate che non ci sia pericolo di contagio all'interno di bus tram metropolitane quando poi le immagini che vediamo e le vedo anche io con i miei occhi non devo necessariamente andarmi ad accendere la tv per farlo sono di intanto assenza di controlli perché tu puoi anche imporre l'ottanta per cento di capienza di numero di presenza rispetto alla capienza però poi se non c'è un controllo se i tornelli della metropolitana fanno passare tutti come fai a controllare che sia l'ottanta per cento la capienza allora ci dicessero per quale motivo i ristoranti sì e i tram no ce lo spiegassero magari loro hanno i dati che a noi mancano e magari ci si contagia nei ristoranti boh hai il microfono spento scusate sono anche un po' deconcentrato sono un po' deconcentrato perché sono qua che sto cercando mentre ascolto Costantino di pensare a che via d'uscita c'è da questa follia che io continuo a percepire come una follia ma è diventata mondiale non è vero che è mondiale se è chiaro continuiamo a dire che è mondiale in realtà è mondiale in un ristretto numero di paesi dieci dodici paesi avanzati fra cui noi e una buona parte dei paesi vorrei che qualcuno mi spiegasse che ho torto io cioè che tutti questi provvedimenti più o meno punitivi contro certe categorie sociali hanno un senso che non ci sono altre cose da chiedere ai nostri governanti che per esempio quelli come me che pensano che le unità sanitarie locali avrebbero dovuto mesi e mesi fa visto che lo sanno e ce l'hanno nel loro database contattare tutti i soggetti oltre una certa età a rischio come un diabete bla 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 e offrire loro assistenza offrire loro maniera di stare isolati eccetera eccetera a costruire nell'arco di sei mesi perché capisco che questo non si sia fatto in febbraio marzo aprile ma da aprile adesso sono passati sei mesi e abbiamo investito in questa operazione di risposta al covid decine di miliardi quindi voglio dire le risorse certo non mancavano per me cercare di fare un'operazione del genere un'anagrafe del suppongo due milioni un milione e mezzo di italiani seriamente a rischio quelli per cui la probabilità calcolata di decesso se contraggono è superiore al boh decidete voi quella se capisco quella media dell'influenza attorno all'1-2% per mille due per mille non lo so tre per mille sei per mille dieci per mille uno per cento non lo so qualcuno avrebbe dovuto cercare di dirlo cercare di proteggere queste cose queste persone fare queste cose per proteggere queste persone sì Michele a proposito le famose raddoppio di terapie intensive che che Conte ha di cui Conte ha blaterato se ci fosse stato stasera non era potuto essere perché ha avuto un impegno improvviso Stefano Merigliano a cui avevamo programmato mi aveva spiegato sai Michele il problema è che non riusciamo nemmeno a ad attrezzare gli ospedali covid a far crescere ci mancano gli anestesisti perché purtroppo c'è un ritardo oramai decennale della politica nella nell'assunzione di personale sanitario e i livelli di salario che offriamo sono tali che le persone non sono attirate questo ovviamente implica che certo non non puoi risolverlo nell'immediato però non lo so una cosa che avevamo discusso con lui lo discuteremo domani o dopodomani era mi ha detto sì però siccome ormai sta cosa ce l'avete clinicamente abbastanza sotto controllo fatti salvi i casi seri costruire personale paramedico che addizionale straordinario con una spesa straordinaria e prepararlo in questi sei mesi in attesa dello shock invernale che sarebbe arrivato lo sappiamo tutti ho capito che molti avevano negato che questo assomiglia all'influenza e quindi abbia un meccanismo stagionale che dipenda dalle temperature dal vivere all'interno al vivere all'esterno eccetera eccetera però era abbastanza chiaro che era così quindi costruire questo personale era possibile sì era possibile perché non è stato affatto boh ma lo so questa idea che noi pensiamo di risolvere tutto questo chiudendo i bar di sera chiudendo le piste da sci fra un po' chiuderanno i parchi ovviamente e lasciando aperte chiese e luoghi di riunione per gli anziani perché i luoghi di riunione per gli anziani sono aperti questa è una cosa folla l'ho verificato mio padre è intelligente a 92 anni sta a casa sua moglie ne ha 80 pure con i loro amici gli ha detto ragazzi all'occhio no ancora a febbraio e infatti stanno bene tutti però da quanto capisco sono aperti sì e quindi il PCM non li chiude no dopo qualcuno si è offeso perché ho bestemmiato come fai a non bestemmiare no Michele ci sono tantissime cose che fanno arrabbiare ripeto ci dessero i dati ci spiegassero perché allora uno se ne fa ragione magari li analizza se ne fa una ragione ma tra l'altro sul tracciamento e sulla risposta italiana all'emergenza Conte anche e lì sono sono saltato dalla sedia Conte ha anche detto ci sono registrazioni naturalmente si può andare a controllare il tracciamento sta andando molto bene ora mi risulta che sta andando malissimo il tracciamento me lo sono scritto mentre lo diceva proprio perché per capire se avevo capito bene io oppure avevo bevuto non lo so e poi che la risposta italiana complessivamente sia positiva è dimostrato dei dati dice Conte anche qui sono affermazioni quelle affermazioni che tu ti chiedi ma questo deve per forza fare propaganda oppure è proprio scemo una tattica per risolvere il problema pensionistico per esempio non ha detto una parola non soltanto sui trasporti ma anche sull'RSA dalle cronache dei giornali leggiamo che di nuovo ci sono diverse RSA che oggi sono focolai in cui ci sono 20 30 40 50 70 80 contagiati all'interno di alcune RSA non una parola su quelle a proposito di spese sanitarie è vero attrezzare delle parti di terapia intensiva non è una cosa semplicissima perché non c'è bisogno soltanto dell'apparecchiatura ci vuole anche personale però uno dei temi è quello che tra l'altro favoriti oggi dal fatto che il contagio sembra prendere una fascia soprattutto una fascia d'età diversa da quella che prendeva fra febbraio marzo e aprile di quest'anno i medici di base hanno i protocolli per poter fare degli interventi se siccome ce li hanno il primo intervento viene fatto dal medico di famiglia non risulta che sia stato fatto tanto in quel senso e ancora una volta la sensazione ripeto sgradevole è quella di vedere che si fa qualcosa per dare il senso che si faccia qualcosa e non si vada a fondo ai problemi faccio qualcosa non posso fare il lockdown di nuovo perché altrimenti veramente la piazza a proposito a proposito di piazza cominciano a uscire i primi dati dei sondaggi mentre Conte veniva fino a un paio di mesi fa glorificato e proposto per la beatitudine un pochino da tutti ti ricordi come aveva indici di gradimento mai osservati prima probabilmente oggi secondo i nuovi sondaggi gli italiani cominciano a dare colpa al governo della cattiva risposta al covid e del cattivo andamento dell'economia e allora questo rafforza ulteriormente la mia idea che non sapendo bene cosa fare fanno qualcosa senza rendersi conto delle conseguenze senza fare un'analisi approfondita di che cosa bisognerebbe fare pur di fare qualcosa e dare la sensazione che stanno rispondendo questa è la mia idea cioè come un po' sparare nel mucchio oppure sparare sulle categorie sono più semplici da fermare sì sì capisco cioè è tutto semplicemente non è solo ingiusto no perché poi per carità magari è vero magari questa volta riescono a fare questa cosa che dici tu a parte che non riesco a capire perché adesso capiamoci molte delle categorie perché non è che smetto di essere realista solo perché sono incazzato da questa follia molte delle categorie a cui viene detto non potete lavorare sono fra quelle che regolarmente si accusano di essere evasori fiscali giusto? sì non sono le uniche ma sono fra quelle e chiunque di noi abbia un minimo di onestà sa che è vero che in quelle aree l'evasione fiscale è abbondante questo non vuol dire che tutti evadono non vuol dire che 100% 50% 72% però c'è c'è d'accordo? quindi sulla base di cosa gli mandi la segna? ah questa sarebbe la domanda la linea ormai morta e sepolta è a mio avviso sempre più attuale a fronte di misure folli ingiuste come queste la proposta mia di aprile era usiamo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni ah useranno queste rinfrancheranno i redditi dichiarati negli ultimi anni con un assegno pro quota o faranno il classico una tanto per cui tutti prendono 600 tutti prendono 200 indipendentemente dal fatto che magari qualcuno di questi aveva un'attività in cui invece riusciva a generare 5.000 perché avevano avuto più perché avevano ma Michele allora non si sa però se i tempi sono quelli che ha detto Conte e che ha ribadito stasera Gualtieri non è possibile non ci sono i tempi tecnici per poter fare quello che dici come prima opzione cioè prendere le dichiarazioni redditi dell'anno scorso il microfono ha aperto bisogna spostarmi perché bisogna avere qualcosa ma ti sento dicevo non ci sarebbero i tempi per poter fare una verifica sulla base delle dichiarazioni redditi dell'anno scorso e calcolare e verificare soprattutto il mancato incasso in questo periodo ragion per cui l'unica possibilità ripeto se i tempi che hanno indicato vogliono che siano rispettati è quello di fare di fare veramente i bonifici a pioggia indipendentemente da quello che si è perso o di quello che non si è perso non ci sono alternative l'altra volta l'abbiamo visto e c'erano comunque dei limiti relativi al 25% del fatturato se ricordo bene sono passati realmente tanti di decreti come non me li ricordo neanche tutti anche se li ho commentati l'altra volta bisognava indicare e certificare che si era avuto una perdita di fatturato superiore ad una certa soglia che mi pare fosse il 25% questa volta e adesso cosa sarà ma no stavo dicendo prima quando mi si è allontanato se vogliono rispettare i tempi di pagamento ovvero ristorare tutti indemnizzare tutti entro il mese di novembre non c'è il tempo per fare una verifica della perdita di fatturato non c'è il tempo tecnico non c'è come fai ad incrociare i dati e verificare che la richiesta supportata da autocertificazioni di perdita di un fatturato di pari a X sia effettivamente tale poi tra l'altro il numero della platea di persone che avrebbero diritto a questa misura è talmente ampio che veramente come fanno a controllarle tutte quante sono parole libertà le mie non lo so perché appunto il testo quello definitivo lo vedremo probabilmente domani di fronte a queste cose io cerco semplicemente è vero in questi giorni ho ignorato un po' tutto perché le cose mi hanno da un lato annoiato quando sai più cosa dire dall'altro ti rendi conto che sei veramente in una situazione in cui purtroppo non ti resta che dire avrebbero dovuto fare XYZ quando l'avamo detto aprile, maggio, giugno adesso c'è l'emergenza non riesco a calcare vedo che c'è un dottore o un medico in rete che continua ho messo lì a Chimella Picoltura se vuole venire a raccontarci perché io sto guardando i dati obiettivi in questo momento la situazione ovviamente mi sembra grave a livello di ospedale non mi sembra per niente grave in termini di decessi va bene c'è il ritardo ma ormai questo ritardo di quante settimane arriva però comunque lui sostiene che è drammatica quindi bisogna fare qualcosa ma tesoro mio questo qualcosa che stanno facendo vi serve davvero perché è quello il problema questa è la cosa che io continuo a chiedere sì non ho capito cos'è che dice il medico che bisognerebbe formare il personale certo che bisognerebbe formare il personale ma certamente credo che con quella nota si riferisca a quello che avevo detto io no prima dicendo da quanto ho capito l'ha confermato anche qualcun altro parte dell'ennesima volta sei mesi dopo sette mesi dopo inadeguatezza di risorse col fatto che mancava il personale e magari è anche vero che visto che c'hai un ritardo ormai decennale non è che in sei mesi lo risolvevi però ripeto secondo me un personale paramedico è in grado di trattare sul territorio al minimo i casi più semplici di covid in sei mesi con uno sforzo eccezionale che ti costa alcuni miliardi perché devi pagare la gente tantissimo per lavorare eccezionalmente lo puoi fare o no ma Michele tanto che lo puoi fare che hanno richiamato medici in pensione ma certo che lo puoi fare parliamo di di interventi non ad elevata complicazione no come come curare in terapia intensiva allora l'unica cosa certa in tanta incertezza è che sei mesi sono stati buttati nel cesso non è stato fatto niente le terapie intensive sono aumentate di 1300 unità mi pare avevano detto che le raddoppiavano e i soldi c'erano come ti ricordavi tu prima i soldi c'erano perché siamo indebitati poi a proposito della De Micheli lamentava lamentava sì lamentava che in Italia il trasporto pubblico locale così come come la sanità sono di competenza che non è quella quella di Roma quella centrale ho capito ma esiste la conferenza Stato-Regioni questi qui parlano tutti i giorni un po' di coordinamento non si poteva fare trovare una quadra visto che i soldi arrivavano e dove non arrivavano li si andavano a prendere dal collocamento in asta qualcosa di più non poteva essere fatto è mai possibile che a partire da giugno in poi si è parlato soltanto di quanti soldi si dovevano andare a chiedere l'Europa per il recovery fund a partire da da luglio agosto abbiamo cominciato a parlare di stronzate come referendum dei banchi a rotelle altra mega stronzata dei bandi che non partivano abbiamo scoperto che il bando per quando è stata la settimana dell'8 di ottobre che alcuni finalmente si è ricordato che c'era un bando che era stato promesso e che adesso non ricordo neanche quale e che non era stato fatto ma questa è la situazione la situazione è che si è perso sono persi mesi preziosi dove sicuramente non si risolveva completamente il problema ma si poteva fare in modo di arrivare preparati in questi giorni questo è il punto noi siamo arrivati grosso modo con la stessa preparazione che avevamo a marzo non è cambiato molto lo scenario e va detto questo va detto che non siamo gli unici è vero è vero è pazzesco cioè io ho guardato la situazione spagnola è come la nostra forse peggiore quella francese no quella francese hanno una grande crescita dei contagi maggiore la nostra hanno traordinariamente una grande crescita dei positivi fra i testati rispetto in altri paesi dove invece non c'è così forte da quello che vedo ma magari mi sbaglio non ho letto del tutto la stampa non hanno una situazione di 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 crisi come la percepiamo almeno noi dai racconti di alcuni nel sistema ambientale però di noi sì sì c'è Roberta che mi ricorda che il bando di inizio ottobre è quello proprio per le attrezzature di terapia intensiva cazzo si fa inizio ottobre il bando grazie Roberta cioè capisci questa è proprio la dimostrazione plastica dell'impreparazione della sciatteria cose che si dovevano fare ad aprile o a maggio perché sapevamo che rischiavamo una recrudescenza della pandemia e si aspetta che la recrudescenza cioè diventi emergenza per farle poi è vero che gli altri gli altri paesi non sono messi meglio di noi perché qui tutti quanti hanno dato tutti o quasi tutti io non neco tutti i paesi ma quelli più vicini a noi un pochino li seguo tutti hanno dato grosso modo lo stesso spettacolo penoso o quasi penoso però non possiamo neanche consolarci con questo Michele no c'è un problema veneto lasciate che butta perché tu ti dico hanno un'aria smonata i due non sanno che dire allora vi racconto adesso sentirete dei rumori in Veneto non so se è arrivato anche fuori girano una serie di barzellette di meme con che mostrano la foto di sapete che c'è Zaia che mostra i cartellini alle conferenze stampa e allora ne sono uscite tantissime ironiche la più bella di tutte pensate che cambia argomento per buttarla un po' così poi torniamo vediamo se riusciamo a dire qualcosa intelligente ne è uscita una in cui alzavo il cartellino e diceva simesi mezzo milione eccetera il Veneto una parte del Veneto quella vicina alle campagne dove si coltiva la soia mi veniva a leva è infestato da cimici e anche il posto dove siamo oggi abbiamo scelto le finestre aperte abbiamo la stanza centrale dove sono infestata da cimici ci sono cimici che vorranno prima ne avete visto me li toglievo dalle braccia allora stiamo cercando di aspirarli quindi ogni tanto si sente e io c'è l'invasione del cimice che ti dà quest'atmosfera con attorno sta roba del virus più i cimici che ti invadono a centinaia prima veramente erano centinaia sembrava una cosa da film dell'orrore ti dà questa atmosfera apocalittica cerco di buttarla un po' in ridere così non ci riesco tanto comunque era per spiegare perché ogni tanto di uno spira cimici che cerca di ritirarne alcuni dall'ambiente vabbè comunque questa è la situazione vedo un pochino di messaggi vediamo un attimo se c'è qualcuno che ci dà qualche spunto magari abbiamo sorvolato ci protegge ah i cimici sono cinesi ho studiato dove vengano sembrano 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 essere sì sì esatto qualcuno coincidenza sono cinesi perché sono molto legati alle coltivazioni di soia erano arrivati negli Stati Uniti dalla crescita della soia guarda casa dall'Asia parecchio tempo fa credo più di un decennio hanno trovato vari sistemi per eliminarli qua non si usano e quindi le abitazioni in certe aree del Veneto sono invase da nuvole di cimici e sono guarda caso cinese a confermare a te lì al complotto non abbiamo non abbiamo spunti stasera ma spunti purtroppo Maria Caterina Falchi che chiede se è possibile secondo noi un lockdown totale secondo me è possibile ma poco poco probabile perché non hanno il coraggio di fare un lockdown totale ripeto non che sia dispiaciuto per questo anzi però non hanno il coraggio perché perché un occhio è sempre rivolto al consenso e oggi è molto poco fair un lockdown totale considerando appunto la situazione economica e il grado di preoccupazione o di terrore delle piccole imprese dunque aspetta c'è questo signore che dice delle cose qua ecco questo vorrei capirlo l'ho messo lì proviamo a analizzarlo cosa dice Daniele Simeone ci sono paesi già in lockdown totale con meno contagio nelle metropoli italiane è inutile lamentarsi che anche in Italia avrà il suo lockdown ed è inutile buttare le bombe carta sulle forze dell'ordine se le risorse sono finite c'è il progresso da tutelare a parte il c'è Daniele scriviamo un pochino meglio in italiano mica ho capito tanto cosa vuol dire Daniele tu l'hai capito Michele? ho cercato cioè adesso non so quali paesi siano in lockdown totale con meno contagi di noi adesso andrò a vedere il lockdown totale è poi una parola abusata noi continuiamo a parlare di lockdown totali poi vai a vedere sono cose diverse ma per carità la Spagna ha dei lockdown su alcune aree abbastanza totali si credo che a Madrid per esempio e anche a Barcellona l'abbiano restituito di nuovo la mia domanda in quanto italiano stasera è queste cose a cosa servono sono queste le cose che chiediamo a chi governa di fare non mi rimane altra domanda da fare a me sembra che queste cose non servono per risolvere il problema e sto assumendo che il problema sia quello che la stragrande maggioranza degli italiani assume sia cioè la crescita del numero di contagi si buttare la bomba e carta contro i polizioti è criminale non è una stupidata è semplicemente criminale non è che non serve a niente è semplicemente danno ed è criminale punto non è quella il termine non è che sto qua a difendere chi butta bombe e carte siamo mati però cos'è il pregresso da tutelare non ho capito è infatti cos'è il pregresso da tutelare qual è il pregresso da tutelare mi ho capito c'è un pregresso pregresso da chi è? non lo so non lo so ah sì Hermes mi ricorda un'altra affermazione abbastanza singolare di Giuseppe Conte che suona grosso modo così entro dicembre dovremmo avere le prime dosi di vaccino questa è una cosa già detta settimana cosa dicembre dovremmo avere le prime le prime dosi di vaccino ma no assolutamente esatto questa è una cosa che anche noi abbiamo detto forse per carità io mi sono esposto sarò anche stato malinterpretato forse ho detto delle cose anche sbagliate delle volte ma fondamentalmente sulla linea di fondo mi sembra che i fatti confessano questo è un virus che è arrivato è endemico ormai da nove mesi è qua per restare e le misure per gestirlo vanno calibrate al fatto che è qua per restare io se capisco dagli esperti questi sì di vaccini che ci stanno lavorando che sono comunque nell'ambito di chi ci lavora è che se va tutto bene boh provo a dire un mese ma con un intervallo di confidenza ampio marzo ma le prime dosi perché da quanto ho capito per esempio quello più avanzato quello di moderna se non sbaglio stanno si programmando la produzione di adesso non mi ricordo più il numero non vorrei sparar cazzate perché mi pare un miliardo di dosi che guardate è poco perché ma comunque l'orizzonte di produzione di quelle dosi è 2021 cioè nell'arco di tutto l'anno quindi stiamo parlando di 16 mesi da ora 14 mesi da ora non diciamo che c'è nessun vaccino neanche quello famoso russo no? sì quello sperimentato dalla figlia di Putin sì 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 no no però questa cosa Michele l'ha detta Conte oggi e l'aveva detta la settimana scorsa di maio siamo sempre nell'ordine della propaganda più becera perché accanto alla notizia cattiva questa tra l'altro è una tecnica di comunicazione abbastanza rozza che però tante volte funziona mettere la notizia negativa in mezzo a due positive e mi sembra che sia questa proprio la tecnica che viene utilizzata quindi una delle due notizie positive è che il vaccino sarebbe pressoché pronto e presso cominceranno a distribuire le prime dosi non ha detto che saremo tutti vaccinate a dicembre ma ci mancherebbe sarebbe stata troppo grande però ha detto che entro dicembre arriveranno le prime dosi tra l'altro a proposito di quello che dicevi sui numeri ricordo forse il primo e il secondo video che è fatto con Guido Silvestri in cui Guido diceva che ci saranno bisogno di diversi richiami per cui le dosi devono essere moltiplicate per 4 posto che si trovi il vaccino giusto e tutte le le sperimentazioni vadano bene sempre Hermes che mi scrive in privato no Hermes dell'aumento dei dipendenti pubblici non ho voglia di parlare aumento di stipendio dei dipendenti pubblici perdonami ma non ho voglia di parlare sono già incazzato abbastanza il pregresso dice Simone Simeoni Daniele Simeoni il pregresso la spesa pubblica già allocata e il debito pubblico già prodotto non ci sono risorse per salvare la gastronomia locale e il turismo internazionale noi ci troviamo con un disavanzo di 178 miliardi ogni nuovo scostamento di bilancio deve essere approvato dal Parlamento ogni nuova misura di spesa deve essere coperta in qualche modo ed è inevitabile che venga coperta con nuovo indebitamento una possibilità ma relegata a cifre residuali può essere quella di utilizzare un avanzo di cassa che abbiamo sul conto di tesoreria che attualmente è di 83 miliardi è arrivato a 100 miliardi nel mese d'agosto è sceso a 83 miliardi nel mese di settembre quella tesoreria tra l'altro è falso come viene detto in giro da rappresentanti politici quali per esempio Stefano Fassina che è un un dato fuori norma perché se si va a guardare lo storico del conto di tesoreria è sempre rimasto intorno a queste cifre in questo periodo dell'anno per poi scendere verso fine anno a dicembre quando viene fatto il ritiro di titoli pubblici potrebbero utilizzare una parte residuale di questo conto di tesoreria per pagare alcune cose ma questo significherebbe che si sposterebbe in avanti presumibilmente in gennaio o febbraio debito che deve servire ad alimentare il conto di tesoreria quindi vuoi lanciare la lattina la lanci in là di un mese ma non risolvi il problema perché poi si trascina il nuovo debito aggiuntivo rispetto al preventivato nell'anno 2021 no Hermes non mi sono incazzato sono solo stanco sono incazzato contro tutti tranne che contro di te che sei un amico figurati c'è sempre Hermes sto rivelando le nostre conversazioni private spero che tu non te ne abbia male dunque adesso non so cosa Guido abbia detto però so cosa dice a me cosa ha detto anche l'altro giorno quando ci siamo sentiti praticamente fatta può voler dire tante cose certo ce ne sono svariati credo 8 che sono in fase 2-3 di cui credo 2 in fase 3 dei cosiddetti test come sapete i test per vedere se i vaccini funzionano se non hanno effetti collaterali se non ti ammazzano se hanno efficacia seguono tre fasi progressive aumenta enormemente l'ampiezza del campione la fase 3 è molto ampia è dura però normalmente anche svariati mesi ammesso e non concesso che si concludano i test che siano dei risultati finali per la fase 3 a un giro di un mese poi bisogna produrli e distribuirli questo è il punto che molti si stanno scoprando quindi io direi che provare a contare sul sul vaccino come soluzione nella mettiamolo così per l'inverno 20-21 ok perché poi è questo che stiamo no siamo ottobre e se tanto mi da tanto ne abbiamo fino ad aprile cioè abbiamo altri sei mesi circa no nella seconda metà di aprile probabilmente c'erano già dei segni quindi credo che il problema sia oggi esattamente lo stesso che molti di noi avevano posto sei mesi fa che bisognava pensare a una gestione di un virus endemico che aveva avuto ovviamente un effetto stagionale o un intorno stagionale e che questo andava gestito informando la popolazione che così era e che a questo bisognava reagire adesso appena ho guardato i dati di mortalità ma non voglio tirar fuori le mortalità bassissime dei paesi che ho sempre usato come esempio in questi mesi perché sembra polemica però i numeri sono lì e di nuovo il fatto che il fatto che l'Italia non sia l'unico paese nelle pettole che ce ne siano anche altri implica solo una riflessione più ampia su come le società occidentali il nostro modo di vedere la nostra struttura demografica la percezione di ciò che è rischio ciò che non è rischio il consenso su ciò che i governi gli apparati pubblici chiamateli come volete devono fare evidentemente non sono adeguati evidentemente non sono adeguati o forse sono adeguati forse questo è davvero il meglio che si può fare e occorre mettersela via a me non sembra perché saranno anche poche le eccezioni ma insomma ci sono ci sono quindi io non so che dire dover continuare a ripetere che va bene così perché anche in Spagna stanno come noi anche in Francia stanno come noi io non riesco non riesco non riesco a accettarlo però venga qualcuno a raccontarci qualcuno mi ha chiesto di rispiegare per l'ennesima volta perché ho firmato la Grey Barrington Declaration l'ho già fatto e francamente non mi sembra il caso di coinvolgere Costantino in questo l'ho fatto sono disposto a farlo di nuovo con persone che ne vogliono dibattere stasera la reazione nostra questa chiacchierata al volo è motivata dai provvedimenti appena annunciati al governo italiano quindi cerchiamo di stare su quello fra i provvedimenti annunciati del governo italiano non c'è niente che abbia a che fare con per esempio la gestione dell'RSA ecco questo però madonna mi ripeto sempre stessa cosa ma io stia zitto però perché c'era qualcosa hanno detto qualcosa no quello è un tema che non si tocca è un tema che non si tocca quello e non si è detto nulla in dieci mesi sia chiaro nulla silenzio totale la gestione dell'RSA sembra che sia una cosa che riguarda soltanto a titolo di giornali quando succede qualche scandalo oppure quando si scoprono i focolai i cluster ma perché lo dicono i giornali oggi c'erano due di notizie sull'RSA una non ricordo dove dove sono stati trovati 80 c'è stato un focolaio con una circa 80 di fra pazienti e addetti l'altro giorno c'era quello del triste noto trivulzio quindi è un film che si ripete siamo alla seconda o terza replica di un film già visto però sull'RSA non c'è niente microfono va detto cercando di fare delle osservazioni così che escano un po' dalla rabbiatura e dalla dalla contingenza anche questo è una cosa su cui ho riflettuto no obiettivamente tutta una serie di paesi europei in particolare e alcuni stati degli Stati Uniti guarda l'Istituto è molto diverso io davvero vorrei riuscire a convincere una volta un po' di amici che stanno in America a discutere la situazione americana e capirete che è molto diversa nonostante il contagio sia amplissimo e vi siano situazioni o vi siano state situazioni drammatiche anche lì situazioni diverse nei paesi europei io noto e di nuovo un'osservazione da intellettuale se volete perché forse ha poca rilevanza nell'immediato per l'azione politica che essere diventati delle società vecchie dove gli anziani eccetera dominano sia economicamente che politicamente che culturalmente ha un impatto ha un impatto sulla maniera in cui gestiamo questa cosa e l'aver deciso di rimuovere per una strana forma di moralità che non riesco a capire per una strana forma di non so cosa sia non mi viene la parola Costantino aiutami perché non parliamo del fatto che questo virus è particolarmente pericoloso per una certa fetta di persone che queste persone devono capire che per loro è pericoloso e noi socialmente dobbiamo capire che sono queste le persone che vanno protette è una cosa che non mi spiega le volte che lo viene tirato fuori ti viene urlato in faccia che sei un assassino e chi? ma anche perché nessuno dice che devono essere lasciati al loro destino no? si dice semplicemente ci sono delle categorie più rischio cominciamo a isolare quelle perché corrono rischi maggiori se contraggono la malattia no? mi pare che sia questo il tema stavo guardando la situazione della Germania allora questa è la situazione complessiva su World Matter cercavo quella di oggi daily situation allora in che tu guardi io rispondo a un po' di domande no Luca sono delle domande che abbiamo fatto anche noi per esempio anche questo va detto mi scocci che fastidio la richiesta che si creasse un panel strutturato decentemente di alcune decine di migliaia di cittadini che riuscisse a replicare più o meno la composizione sociodemografica del paese da seguire per vedere per studiare proprio dove si diffonde in particolarmente il virus e chi colpisce particolarmente chi colpisce in modo dannoso è una richiesta che io personalmente ho fatto per la prima volta all'inizio di febbraio poi l'ho fatta pubblicamente il 15 e così via e tantissimi hanno fatto prima di me dopo di me contemporaneamente eccetera anche recentemente l'experimentalista c'è ritornato questa cosa non esiste e devo dire questa è una delle poche cose su cui mi sono interessato fino a fare delle liti durante il lockdown sia qui nel Veneto offrendo supporto alla regione che non l'ha voluto supporto tecnico sia a livello nazionale con le piccole relazioni che ancora mi rimangono chiedendolo e a livello nazionale mi è stato detto non ti preoccupare lo stiamo facendo era aprile ad oggi non si sa e ad oggi io non sono in grado qualcuno c'è qualcuno in ascolto che sa che sa dove si trovano dei dati che possano mostrare davvero dove sono i super spreaders dove si diffonde in particolare com'è che vengono contagiati perché non mi preoccupa cioè lo dico onestamente a me non preoccupa che il figlio della mia compagna molto probabilmente ce l'abbia e tutti i suoi amici ce l'abbia tutti i suoi amici ce lo sono presi in qualche maniera vivono a Milano ok alcuni hanno la febbre alcuni no alcuni sono asintomatici però lui sta aspettando il tampone martedì però ha chiuso in casa da sette giorni non ha sintomi per cui anche se ce l'ha è chiaramente asintomatico perché se l'ha preso l'ha preso tipo nove dieci giorni fa d'accordo e ho tantissimi esempi ultimamente infatti è molto più diffuso quindi molta più gente ce l'ha quello che occorre riuscire a capire è dove diavolo le persone che a questo punto dovrebbero essere consapevoli di essere a rischio l'hanno preso perché mi rendo conto anch'io ho visto in questi mesi e non solo la movida estiva le sale da ballo eccetera anche oggi anche oggi anche prima quando tornavo qui siamo passati in bicicletta ho visto i bar in paesi al vento con gente di tutte le età che si facevano gli sprint avevano tutti le mascherine ma a tre quarti ce l'aveva abbassata perché stavano bevendo è molto probabile che lo prendono e by the way erano le sei cinque e mezza quindi sta roba la prenderanno anche a mezzogiorno l'ora non vuol dire può darsi può darsi no ho visto che la gente continua a star fuori quindi stanno molto all'aperto e non li ho visti particolarmente vicino adesso non lo so il punto è che non sono in grado nessuno di noi è in grado di 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 dare una risposta vera se è lì che viene diffuso o se è altrove che viene diffuso ma non è neanche quello a mio avviso il problema perché io non riesco a concepire come una società che abbia la struttura di quella italiana di quella francese di quella spagnola di quella tedesca di quella inglese possa funzionare at all oggi ok in presenza di un virus che ha il grado di infettività di contagiosità maggiore di quello dell'influenza e che ha almeno per quanto riguarda questi questi aspetti gli stessi comportamenti ed è molto più grave ok quindi è plateale che milioni di persone lo prenderanno quello che a me interessa continuo a dirlo è che non lo prendano quelli a cui può far male per davvero sarò anche scemo a pensare così realisticamente ma non vedo altra soluzione perché la soluzione di cercare di non prenderlo tutti o cercare di prenderlo pochissimo richiede dei lockdown di mesi e mesi e mesi in cui tutta l'attività non solo economica ma proprio sociale esistenziale si blocca quindi la domanda da farsi che ogni governo responsabile dovrebbe farsi e se non se l'ho fatto neanche quello inglese peggio per loro se non se l'ho fatto quello francese peggio per loro e chiederti come cerco di impedire che lo prendano quelli a cui può far male non lo so se sto facendo c'è un anonimo di questi con i nomi poco ambiziosi non è che quando diventano anonimi si chiamano la merda il pifero il cimice la zanzara no no si chiamano tutti Euclide Socrate Traiano Einstein Alessandro Magno ammazza Deo Senega ah no perambiente gli stati smica male Nembo Kid Batman ci sto facendo dicendo le stesse cose di Boris Johnson non lo so e francamente non me ne è fottuta nulla non me ne è mai fottuta nulla chi ha detto una cosa se l'ha detta giusta o se mi sembra sulla base delle informazioni che ho in quel momento che sia giusto se poi le informazioni cambiano io cambio idea esattamente come ho fatto l'altro giorno c'era un tweet con dei grafici di Ernesto che mi aveva confuso mi sono reso conto che il twitter i grafici erano francamente fatti male infatti io li avevo interpretati ancora peggio il risultato era fatto un tutto il cazzo ho tranquillamente ammesso aver fatto una figura di merda per cui non c'è problema però sulla base delle informazioni esistenti io vorrei che qualcuno mi convincesse che quello che io sto dicendo sono stronzati per favore sì però nel merito non con gli appellativi sì sì nel merito perché ci sono questi qua che hanno bisogno di dire scemenze esatto a questo progetto siccome lui si considera Traiano da dieci anni pensa che è giustificato ma guarda se gli consigli Traiano da dieci anni ti ricordi quello che si considerava Napoleone con lo scolapasta in testa è grave se dura dieci anni perché se dura per una sera magari una battuta io mi sono vestito da che diavolo ne so Giulio Cesare una sera per una festa non era così grave se mi vestissi a Giulio Cesare per dieci anni io spero che i miei amici mi prenderebbero per mano e direbbero Michele vieni qua perché andiamo andiamo a fare due chiacchiere con uno che ti voglia bene va bene andiamo oltre sì niente adesso aspettiamo il testo definitivo e dopo vediamo che cosa succede Conte ha ricordato che questo è il terzo di PCM in una settimana se spegni il microfono Michele perché c'è il solito di lungo dunque allora dicevo Conte ha ricordato che il terzo di PCM in una settimana ora non è che sia necessariamente una cosa gravissima produrre più di PCM di quanto che so io diciamo di qualunque altra cosa un termine di paragone antipatico brutto lo lasciamo perdere però anche questa è la misura secondo me della confusione che c'è perché fare tre decreti amministrativi in una settimana significa che tu stai andando a tentoni significa che non hai le idee chiare significa che sei in balia ora dei sondaggi ora delle delle pressioni che arrivano per esempio dai governatori dai governatori dai presidenti di regione e quindi ti muovi un pochettino come come ti fa muovere il vento l'idea è chiara che questo governo non le ha mai avute non le ha mai avute nei mesi di aprile di marzo aprile dell'anno scorso diciamo più volte che la sensazione era quella che si fosse optato per il lockdown perché in questo modo nessuno avrebbe poi potuto accusarlo di non aver fatto abbastanza fai già il massimo e quindi nessuno potrà dirti non hai fatto abbastanza adesso ci troviamo in una situazione paradossale in cui quello che poteva essere fatto non è stato fatto quindi altro che abbastanza non è stato fatto nulla e si procede invece con un lockdown di fatto perché tale è perché dire facciamo il lockdown totale pare brutto perché non verrebbe non verrebbe accettato dall'opinione pubblica questa secondo me è la situazione penso che il PIL 2021 sarà molto 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 deludente rispetto alle previsioni che sono state fatte in quella sciocchezza chiamata nota d'aggiornamento al DEF rispondo ad una domanda che ho letto passare sarà un 2021 che altro che è una domanda per uno che dice gli ospedali si stanno riempendo non dai dati fatemi vedere mostrare un grafico che ho trovato all'anno gli apro un microfono questi sono i dati degli ultimi 30 giorni per il stato che ho tratto c'è un'osservazione divertente che questa l'ho vista sempre guardate questo grafico qua di destra allora a critico è praticamente ospedale mentre severo è febbre insomma il medico che ti dice la febbre è alta insomma severo gli altri si definiscono da soli allora a parte il fatto che appunto cominciamo a avere ci sono è visibile forse non si vede nella cosa comunque c'è una micro linea rossa critica quindi da ospedale 40-49 prima non ce n'è e ovviamente il grosso è qui ora la cosa che ho trovato se mi permettete di alleggerire un po' il tono che però è significativa guardate la curva degli asintomatici o dei paucisintomatici quindi la somma di verde e blu uno si aspetterebbe che sia monotona decrescente parte alta per i più giovani invece non solo cresce qui c'è il gruppo 0-1 anno questo è il gruppo 2-6 anni vabbè qui è ragionevole questi sono infants bambini appena nati quindi più deboli poi decresce come uno si aspetterebbe fino al gruppo di età 80-89 la cosa che trovo interessante vorrei veramente capire cosa c'è dietro perché se guardi poi ricresce per quelli maggiori di 90 e che per quelli maggiori di 90 il numero di criti la percentuale ovviamente tutto questo sono percentuali sono percentuali per gruppo di età la percentuale di quelli in stato critico è minore di i tre gruppi precedenti cioè 60-69 70-79 80-89 non so se c'è qualche specialista è stranissimo anche severo e lieve è inferiore è incredibile sì sì tutte e cioè a me è venuta questa ipotesi molto darwiniana però questo davvero lo butto lì non da esperto c'è da pura speculazione per provocare anche un po' se qualcuno che abbia studiato la cosa seriamente vedo che qualcuno ha già anticipato quello che sto dicendo sì che se hanno superato i 90 probabilmente non hanno patologie serie probabilmente sono di costituzione fisica geneticamente o anche per stili di vita estremamente sana e quindi hanno capacità metaboliche di reazione migliori di altri sì anche io ho pensato la stessa cosa però l'ho trovato interessante comunque mi dispiace non c'è alcuna evidenza quel grafico lì è lo stesso da otto mesi non c'è alcuna evidenza sul fatto che in percentuale si sia messo a fare più danno nell'età più giovane ovviamente siccome si è diffuso di più nell'età più giovani fra i sintomatici fra quelli che richiedono cure ovviamente la percentuale dei giovani dei giovani dei non molto anziani è aumentata da quello che ho capito l'età media dei ricoverati penso un po' è passata da 70 a 60 però non è che sia passata da 70 a 45 quindi da quello che vedo continua a rimanere il gruppo oltre 90 in Italia non è poi piccolissimo credo sia sia composto e non c'è lo stesso dato diviso per sesso almeno non l'ho trovato credo sia composto da più di 100.000 persone solo da controllare così sto zetto sto zetto non so che lascio la parola a costo ah sì non sapevo cosa dire stavo guardando anche io quel grafico che hai mostrato tu prima sì niente però un grafico con i microdati non ce lo danno neanche su Epicentro perché età mediana dei casi 51 anni 49% maschi 51 femmine 38.000 casi sugli operatori sanitari sto guardando i dati aggregati da dall'inizio della nella pandemia no 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 i dati ovviamente ho detto una cazzata nel senso che quello che avevo detto 100.000 era la linea di un anno gli oltre 90 anni in Italia dai 90 in su sono quasi 800.000 quindi non è per niente un gruppo piccolo in Italia sono 800.000 quindi praticamente pari a quelli di età fra i 0 e i 2 anni infatti infatti boh non so davvero che altro dire Michele io sono abbastanza scoraggiato adesso comincerà da domani praticamente perché poi pare che il nuovo provvedimento andrà in vivore dalla mezzanotte di oggi quindi fra meno di un'ora per cui domani avremo un'Italia diversa hai sempre il microfono staccato non stavo parlando avevo solo mostrato il dato perché qualcuno aveva detto che aveva dato il dato sbagliato gli ultramontani ho fatto vedere il dato istademo che sì domani avremo un'Italia diversa abbiamo incredibilmente 1300 persone che ci ascoltano erano 1500 prima e a me dispiace che non siamo in grado di dire cose positive o che facciano sperare per il meglio che aiutino che almeno io non voglio mettere in mezzo costa costa dire la sua io continuo a ripetere delle cose che dico da un po' di tempo se questo fa pensare a qualcuno mi autoglorifichi proprio no mi sento in mutande però no ma lascia che mi esponga Michele allora io in questi mesi ho preferito non dare una mia azione perché mi rispettavo unione soltanto sulle cose che conosco molto bene ho riportato dati tante volte li ho riportati e basta senza neanche commentarli per le ragioni che dicevo prima adesso però ho sempre detto ho sempre criticato il fatto che dei provvedimenti presi non si desse giustificazione e mi sono anche chiesto questo probabilmente lo ricordi ancora nelle chiacchierate che facevamo fra febbraio e marzo è mai possibile che non esiste una via razionale diversa per la gestione dell'epidemia è possibile che non esista cioè che debba essere tutto on off oppure bianco o nero è possibile che non si possano provare tentare strade diverse basate sull'osservazione dei dati sull'osservazione dei dati come appunto è quella relativa al fatto che era macroscopicamente evidente in primavera che il covid colpiva in modo più severo le persone oltre una certa età questa è sempre stata la mia posizione e questa rimane ancora oggi la ribadisco perché magari si è persa in questi mesi in cui ho preferito parlare d'altro dico che ci sarebbe bisogno di un approccio razionale anche nei commenti soprattutto nei commenti e soprattutto nei commenti delle persone che hanno una caratura intellettuale relativamente alta io lascio perdere gli anonimi non riguardo nemmeno gli anonimi che insultano di quelli me ne frega veramente un cazzo però le persone che hanno una caratura intellettuale almeno decente dovrebbero accettare che si possa anche avere opinioni diverse e che si possa ragionare di vie diverse da quelle che vengono proposte senza essere tacciati o di negazionismo o di sottovalutazione del problema qui nessuno sta sottovalutando il problema altrimenti non avremmo passato sette mesi della nostra vita a parlarne praticamente tutte le settimane perché è vero che non abbiamo parlato soltanto di quello perché il mondo è complesso e bisogna parlare di tante cose ma abbiamo ampiamente parlato anche del problema covid quindi non c'è nessuna sottovalutazione quello che voglio dire è che trovo indecente che non si possa cercare una soluzione diversa o comunque cercare un ragionamento che porti a soluzioni che non siano chiudiamo tutto senza essere tacciati senza essere etichettati in qualche modo tutto lì ripeto non ne faccio un problema degli anonimi che soprattutto su twitter si scatenano appena scrivi qualcosa che vada un pochino apparentemente tra l'altro apparentemente controcorrente mi riferisco alle persone che hanno una caratura intellettuale perché poi lo shitstorm nei commenti leggevo che il nostro amico Riccardo Pulici è stato colpito dall'ennesimo shitstorm a proposito di una proposta che tra l'altro coerentemente con quello che dicessi tu che lanciassi tu come proposta qualche mese dietro Michele colpirebbe anche lui cioè quello di un contributo di solidarietà per chi dallo stop delle attività non ha subito nessun danno anzi forse addirittura ha subito anzi addirittura ha beneficiato di una riduzione del proprio impegno lavorativo a favore di quelle categorie che invece si vedono chiuse da un giorno all'altro e che non possono incassare neanche le somme utili a pagare le bollette Riccardo ha rilanciato quell'idea ed è stato preso a male parole su twitter ognuno regisce a modo suo forse ah sì non lo sapevo solidarietà Riccardo adesso vado a vedere io oggi appunto ho ignorato i social anche ieri abbastanza a me sembra folle cioè a me sembra adesso astraendo da tutta la questione sanitaria rimanendo solo la questione economica e accettando per sante per sante e perfette le disposizioni che sono state adottate prendiamole per giustissime che di meglio non si può fare a me sembra solo al di là della giustizia dell'umanità della solidarietà anche economicamente ovvio che occorre introdurre meccanismi di condivisione del costo ma come si fa ad aggredire cioè su questo davvero non so da dove vengano gli attacchi non voglio provare a indovinare perché non li ho visti però come si fa cioè come fai se accetti che queste sono le misure giuste a dire però no non è giusto condividere nel costo economico come fai c'è qualcuno me lo dica fra chi ci ascolta se c'è qualcuno che ha attaccato Puglisi e quindi anche me mesi fa quando ho fatto la proposta credo per primo in Italia l'aveva fatta in contemporanea Greg Manchin negli Stati Uniti dove di fatto l'hanno fatta devo dire in maniera forse fin troppo negli Stati Uniti tra combinazione statale e federale i sussidi di disoccupazione che lì coprono tutti non coprono solo i lavoratori dipendenti ma anche gli autonomi quindi tutti c'è addirittura ricerca economica che mostra come aveva aumentato sostanzialmente i redditi netti del 50% più basso nella classifica chiamiamola scusate sto creando parole un po' rapidamente della distribuzione di redditi quindi negli Stati Uniti quella misura è stata presa in maniera forse perfino più forte di quello che avrebbe dovuto essere da un puro punto di vista razionale poi la scelta politica ovviamente l'ha fatta congresso e presidente d'accordo per una volta quindi andava bene entrambi che qui non si foglia fare e che si facciano questi provvedimenti a pezzi e bocconi e che poi chi lo dice guardate che il costo sociale e il costo economico andrebbe condiviso venga martirizzato e non so cosa gli abbiano detto ma immagino gli abbiano detto le stesse cose che mi sono detto le stesse cose che hai detto te certo a me è mandato del comunista del fascista del liberista del criminale dell'odiatore del dipendente pubblico poi la mia proposta come sono sicuro anche quella di Riccardo non riguarda solo il dipendente pubblico riguarda tutti coloro i quali a seguito dei provvedimenti possono mantenere redditi uguali o addirittura superiori è una proposta banale di condivisione del costo a questi gli va messa le forme tecniche le possiamo studiare ma fondamentalmente un'imposta straordinaria temporale temporanea con la quale si finanzia un trasferimento altrettanto temporaneo altrettanto straordinario a chi invece per ragioni sociali per il bene di tutti viene impossibilitato di lavorare e guadagnare non riesco neanche a concepire in quale paese vi possa essere una grande quantità di persone che dice che questa cosa è sbagliata boh non lo so si ci sono alcune alcune categorie che in Italia come vengono semplicemente sfiorati da una da una riflessione insorgono e non insorgono soltanto quelli che appartengono a quella categoria ma insorgono un pochino tutti è un po' come toccare la mamma o il presepe o la chiesa o le poste fra questi sono anche dipendenti pubblici ogni volta che si si prova a portare l'attenzione a quell'argomento trasversalmente non soltanto quelli al CGL come mi pare qualcuno diceva nei commenti ma trasversalmente c'è la sollevazione popolare e quindi il dibattito che si voleva iniziare frana e finisce ad insulti e così abbiamo parlato anche della cosa che mi chiedeva Hermes prima che pensava mi fosse arrabbiato no non mi sono arrabbiato era fuori tema in quel momento allora Hermes diceva era previsto un aumento delle buste paga di vendetti pubblici di 83 euro al mese Hermes giustamente si chiedeva ma non era forse il caso in questo momento di congelarlo a proposito di meccanismi di solidarietà di cui parlavamo sì ho visto visto ora il tweet di Riccardo sì ovviamente era fatto in riferimento di dipendenti pubblici perché lui è dipendente pubblico professore universitario in Italia ha uno stipendio dipendente pubblico italiano quindi si è auto ha dato l'esempio dice io per quanto mi riguarda ritengo che la categoria alla quale appartengo dovrebbe fare questo sforzo certo io credo dovrebbe venire da tutti coloro che lavorano che sono nel mondo finanziario per dire e potendo farlo più o meno tranquillamente in maniera relativamente ragionevole da casa in smart working vedono i loro redditi non intaccati e tanti altri adesso è inutile fare l'elenco probabilmente anche e per carità quelli che poi dicono sì ma allora quelli del settore sanitario quelli si escludono quelli si anzi e quelli che mi sarebbe dargli dei premi di produzione se volete non è difficile pensare a una cosa ragionevole che premia quelli ai quali viene chiesto di fare uno sforzo straordinario data la situazione straordinaria e che distribuisce questo costo in maniera non dico equa perché poi equa è complicato ma insomma tendenzialmente equa no? se fra questi indipendenti pubblici ci sono la maggioranza sui it a mio avviso fra questi la maggioranza sono i pensionati perché siccome sono credo 17 milioni e roba del genere 18 milioni 18 milioni sì ma credo che 18 milioni siano le prestazioni pensionistiche poi c'è delle persone che ne prendono due quindi le persone fisiche credo sia un numero leggermente minore ma insomma sono di sicuro di più dei dipendenti pubblici e c'è una fetta di lavoro privato ovviamente il lavoro privato alto chiamiamolo così non tutto per carità perché chi non è che mi inventi una categoria se mi vengono degli esempi ma dopo viene fuori che me la prendo con uno piuttosto che con l'altro insomma c'è chi nel privato anche se ha redditi alti in questo periodo non può lavorare quindi non può guadagnare c'è chi invece nel privato con redditi alti o medi o medio bassi può continuare a lavorare lavora e guadagna il stesso reddito di prima un trasferimento del 5-10 a seconda dei livelli per cento a favore di chi invece vede il proprio reddito praticamente azzerato o quasi azzerato non ho capito perché questa cosa sia comunista neoliberista fascista assassina no? boh cioè non lo so non è né destra né sinistra mi sembra logica banale guarda niente più rivoluzionario del buon senso per una ragione qualsiasi decidiamo che uno dei due deve stare a casa perché altrimenti crolla il tetto della casa e ci facciamo male tutti e due l'altro che cazzo fa? allora dice no cazzi tuoi io no? tu non mangi perché non la vuoi io invece sono andato a lavorare e mangio Michele in Italia il buon senso è eversivo quindi quelli che dicono ma allora fate la patrimoniale sui ricchi non hanno capito le dimensioni del fenomeno la cifra benedetti voi a parte che non si capisce perché devi usare la patrimoniale quando quello che stai facendo è intaccando il reddito quindi cerca di equilibrare i redditi ma comunque comunque le patrimoniali sui famosi super ricchi non servirebbe di fronte alle cifre di cui stiamo parlando il 10% del PIL sono 170 miliardi se tu fai una patrimoniale di 170 miliardi in Italia spariscono i conti correnti chiudono tutte le banche rendetevene conto o no mi sbaglio Costa no no è così proprio certo noi abbiamo fatto la live straordinaria siamo stati smonati qualcosa abbiamo detto io avrò anche detto cazzate ma veniva così tu sei stato molto più serio come al solito ma va bene così sì sì va bene così sono sconfizzato ma va bene così ok dai salutiamo tutti grazie per chi c'è stato e speriamo bene speriamo bene ecco sì speriamo bene no più che altro adesso passato il momento così dell'impatto anche emozionale ragioniamoci perché tanto sta roba qua resta resta c'è ancora tempo per pensare alle misure di lungo o perlomeno di medio periodo da fare perché questa cosa resta anche se il vaccino viene approvato per Natale entra in produzione a gennaio e i primi flaconi arrivano a febbraio guardate che da un lato non è il silver bullet questa cosa va gestita va gestita va gestita va gestita e va gestita pensando al lungo periodo e poi sarà ancora più brutale ripeterò una cosa che credo disse Ilaria Capo quando l'intervistiamo oramai sono quasi dieci mesi questo è solo il primo in un mondo così interconnesso come il nostro i fenomeni pandemici di virus pandemici sono cresciuti di frequenza negli ultimi decenni e cresceranno e quindi non c'è solo covid ci sarà non lo so vidoc covid fra n anni dove n non è un numero grandissimo va bene ok abbracci abbracci a tutti ciao ciao arrivederci buonanotte fatti bravi grazie a tutti